Anche quest'anno, come ormai da decenni, la nostra associazione si impegnerà a donare a casi di cura ospedali e famiglie ausili sanitari che aiutino a riacquistare la propria autonomia. Ci prodigheremo per il bene di chi ne ha bisogno. Ci impegneremo a migliorare la qualità della vita. Grazie anche al vostro sostegno agevoleremo il superamento delle tante barriere architettoniche nelle nostre città. Sostenete il progetto Noi con voi. Visitate il sito ilcantantedellasolidarietà.org